Fotografare la danza, workshop per fotografi con danzatori professionisti. Che cosa vuol dire avere a che fare con un corpo? Che cosa vuol dire avere a che fare con un corpo in continuo in movimento? Ci dobbiamo porre delle domande, congelarla o liberarla? Estetica, racconto. Sono diverse le tecniche che vengono consigliate per fotografare la danza, il movimento. In questo workshop noi vogliamo andare un pochino oltre queste tecniche, soprattutto che voi proviate a guardare il corpo in movimento da dentro e non da fuori. Quattro giorni perché faremo molte ore di teoria, di pratica e di esercitazione con i danzatori. Insieme a me c'è sempre un secondo docente, un fotografo che ha uno sguardo interessante su quello che è la strada. Grazie a tutti.